Mantenere i servizi senza aumentare le tasse è possibile, l'esempio di Carmignano di Brenta. La pagina dell'Alta Padovana ci porta a Carmignano di Brenta, dove il Comune è impegnato nella sesura di un bilancio che non preveda un aumento delle tasse. Il Comune di Carmignano di Brenta è impegnato nella preparazione del bilancio. Cosa devono aspettarsi i suoi compaesani in vista di tutte queste sigle che abbiamo sentito annunciare dalla Tasi, Tari, Yuc, eccetera? Beh, innanzitutto noi continuiamo con la nostra politica ormai da dieci anni, quella di non applicare l'addizionale IRPEF e ci riusciremo anche nella chiusura di questo bilancio di previsione 2014. Poi ovviamente ci stiamo destricando tra Yuc, Tasi, Tari, IMU. Diciamo che non è una faccenda semplice, però stiamo lavorando affinché comunque i nostri cittadini e quindi riusciamo a mantenere quella bassa pressione fiscale che siamo riusciti a fare anche negli ultimi due bilanci. È difficile la quadratura del cerchio, c'è chi non ci riesce. È difficile, non impossibile. Non significano tagli lineari, noi siamo estremamente contrari. Tra l'altro investiamo di più per esempio in scuola e sociale e cultura, paradossalmente, e riusciamo comunque a mantenere una bassa pressione fiscale. È ovvio che con questi cavilli nuovi, con tutte queste sigle, sarà più complicato per noi, ma il nostro obiettivo è mantenere basse le tasse.